Oh, hai mangiato, tieni ancora a mano sui pizzepizzi, mamma mia! Ciao Enrico, si parla tanto di Barbie in questo periodo, ma una pizza a tema, non la fai? Barbie, Barbie, Barbie bietola! E certo che te la faccio! E bene, 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 a pezza mia, andiamo a precociere la nostra bababietola, tagliamola a pezzetti e versiamola all'interno di un contenitore. Un poco d'acqua e frulliamola, e adesso farina in macchina, lievito e facciamo miscelare. E a questo punto il liquido ottenuto con la bababietola, un poco d'acqua fredda, e poi agliù, gir, gir, più veloce che puoi. A questo punto il sale, un filo d'olio tutto intorno, ed ecco che il nostro impasto Barbie è pronto! Un po' di pieghe e una bella sculacciata, ma no a te Barbie, all'impasto! E adesso stendiamo il disco di pasta sottile con un po' di cornicione, mozzarella di bufala, un filo d'olio extravegine, hop là! In forno, cottura lenta, docile e mai aggressiva, la pizza è pronta e va sfornata, ma va pure completata. Spaghetti di prosciutto cotto di filiera lucana, la crema di ricotta rosa ottenuta con il ragù napoletano, il basilico crudo è ancora un filo d'olio, voglio, guardate quanto è bello! Guardate che spettacolo, semplice ed efficace! Replicate ma non limitate, perché è una pizza Barbie, sa da sapere fare! Oh, e mangio, tiene ancora a mano queste pizza, mamma mia, come si muoce!